Grazie al Teatro Pubblico Pugliese per questa opportunità che offre ai comuni delle città pugliesi che hanno aderito all'iniziativa, oltre che naturalmente anche al Comune di Gorato. Sin da subito abbiamo aderito a questa bellissima iniziativa del Teatro Pubblico Pugliese per dar vita e per dare slancio e soprattutto per non continuare a dimenticare nella nostra mente che è possibile continuare a fare teatro anche in questa condizione. Il Teatro Pubblico Pugliese ha offerto questa opportunità non solo alle città, al pubblico, ma credo che abbia offerto questa opportunità innanzitutto agli operatori dello spettacolo dal vivo e quindi agli operatori del teatro. Nel loro insieme, compagnie, operatori dello spettacolo che orbitano attorno ad una produzione teatrale, che ne sono tanti e che in questo periodo naturalmente hanno sofferto tanto e continuano a soffrire tanto e poi naturalmente hanno offerto un'opportunità al pubblico. Io sono stato tra quel pubblico che ha goduto di questi spettacoli, che continua a godere di questi spettacoli. Ora tutto questo arriva anche nelle scuole, arriva anche nelle scuole con questa splendida iniziativa perché naturalmente mette insieme due realtà educative e pedagogiche che sono appunto quella artistica e teatrale in questo caso e naturalmente la realtà educativa e pedagogica per l'eccellenza che è quella della scuola. Offriamo quindi, attraverso questa iniziativa, attraverso questo legame con il teatro pubblico pugliese, un'opportunità. Un'opportunità ai nostri ragazzi, un'opportunità ai docenti, perché no? Un'opportunità al mondo della scuola nel suo insieme. E noi siamo contenti di tutto questo perché ancora una volta dal teatro, dall'arte, viene fuori un segno di speranza, di forza, di rilancio e soprattutto viene fuori quel senso di grande appartenenza perché ecco, guardate, nel mio piccolo, io mi ci sono anche cimentato nel far teatro, naturalmente senza nessun tipo di pretesa, ma c'è un aspetto che a me è sempre colpito di questa arte e cioè è un'arte che si fa solo ed esclusivamente insieme. Se non si è insieme non si può riuscire a fare bene teatro. Il teatro è innanzitutto educazione al vivere quotidiano, alla nostra azione quotidiana. Dal teatro si impara tanto e soprattutto con il teatro si cresce tanto. Ora, è inevitabile che quindi non potevamo fare altro che aderire con entusiasmo a questa iniziativa del teatro pubblico pugliese perché entriamo nelle scuole, offriamo ai ragazzi una possibilità di avere l'opportunità di fare anche in questo modo una didattica a distanza diversa, differente, alternativa, ma senza perdere il senso pedagogico, il senso della crescita, il senso dell'arricchimento personale. Allora, a me viene in mente soltanto una frase, cioè quella che amiamo il teatro, il teatro ci regala emozioni, offriamo emozioni ai nostri ragazzi, alla nostra scuola, alla nostra collettività perché con il teatro, con l'amore verso il teatro possiamo anche trovare la forza per andare avanti, per reagire e soprattutto per avere dentro di noi tanta speranza. Grazie. Grazie.